ciao a tutti da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con racing time il tg dei motori allora inizio con il ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati si stanno preoccupando delle condizioni meteo che abbiamo in questo momento qui a catania e verso la costa che va verso l'alto verso messina ci sono stati degli alluvioni danni ingenti però fortunatamente centurip è stato per il momento graziato da queste precipitazioni così abbondanti in realtà in lontananza si sentono si sentono dei tuoni però per il momento è tutto ok un abbraccio va a tutte quelle città che in questo momento sono praticamente sommersi da questi da questi alluvioni e forse c'è anche qualche danno importante in termini di vite umane questo se capito comunque un grazie va a tutti quelli che mi hanno come dire contattato per sapere come andava e un abbraccio in particolare a marco de marc lui ha un canale di formula 1 ve l'ho fatto vedere diverse volte e niente ci tenevo a ringraziarlo pubblicamente partiamo con la puntata perché come al solito partiamo rifacendoci al video di ieri perché due paroline vengono spese poi sempre nel video successivo allora la notizia che vi ho dato ieri ve la ricordate riguardava il direttore di gara della formula 1 wittich ebbene vi ho detto ragazzi ufficialmente lui si è dimesso però circola una vocina che dice che wittich in realtà si è stato allontanato e quindi questa vocina si fa sempre più prepotente perché pare che la cosa sia andata così in quanto ci sono state delle dei dissapori chiamiamoli così tra lui e la parte che appoggia la presidenza e lo stesso presidente bin sulla iem queste le voci di corridoio che stanno girando in questo momento poi un'altra cosa ricordate ieri sono contento di non aver dato tanta attenzione a quella voce che girava anche perché ripeto il gossip a me interessa veramente poco però da quello che ho appreso non è così sicuro che emilton andrà a vivere nel quando si troverà a maranello nella casa di che fu di enzo ferrari e che è stata abitata nel suo periodo ferrarista lungo periodo ferrarista da michael schumacher pare che questa cosa non debba andare esattamente così quindi niente ci tenevo semplicemente a dirvelo visto che comunque di emilton oggi parleremo però faremo tutto questo dopo uno avervi raccomandato di iscrivervi a questo canale anche al nostro secondo canale selezione tv2 attivando la camponellina per rimanere sempre informati su quando escono i video e credetemi soprattutto su questo canale ne abbiamo bisogno perché escono spesso e poi seconda cosa sigla e si parte con la puntata eccoci qua abbiamo detto che vi siete accorti che ho invertito le sigle perché quella più casinara la mettiamo di giorno sotto vostro consiglio allora avevamo detto parliamo di emilton facciamolo subito perché oggi si sta parlando sempre un po di più del fatto che difficilmente credo che la testata sia f1 e no aspetta formula passion grazie a demetrio per le solite segnalazioni si sta parlando del fatto che emilton difficilissimevolmente guiderà la ferrari nei test pirelli ad abu dabi in occasione dell'ultimo anzi dei test che si terranno dopo l'ultimo gran premio della stagione però in realtà questa è una conferma non ancora ufficiale ma che potremmo definire ufficiale perché ragazzi di questo discorso qua chi segue il canale sicuramente se lo ricorda ne abbiamo parlato diversi mesi fa e io vi avevo detto non ci mettete speranza perché emilton non guiderà ad abu dabi per la ferrari ma è ovvio perché voi ve l'immaginate toto wolf che fa questo grande regalo a basser e compagnia ma non esiste completamente ora ad oggi la news è che lui non ci sarà e anche a domani e dopo domani e poi se basser riuscirà a convincere toto wolf lo vedremo però mi sento di confermarvi quello che vi avevo detto mesi addietro e allora la domanda è una quando guiderà emilton perché se ci pensiamo i giorni di test dopo quelli pirelli saranno 1,5 a pilota perché in totale sono tre in bahrain quindi sti benedetti piloti si devono dividere la vettura l'unica pronta in quel periodo ebbene è molto probabile ve lo ricordate quest'anno nei mesi di gennaio febbraio a un certo punto si sono accesi i motori a maranello e i due piloti sainz e lecler hanno girato per riprendere un po tutti quegli automanittismi ebbene ci sarà un test del genere con la vettura una delle vetture precedenti io allora se ne possono usare due a gennaio 2025 la f1 75 e la f la sf 23 però io se fossi emilton vorrei salire sull'f1 75 non avrei tanti dubbi in merito comunque verrà utilizzata una vettura non attuale e non dell'anno precedente per i test di routine che vengono fatti per riprendere gli automatismi ovvio che su emilton ci saranno delle attenzioni particolari perché lui deve prendere confidenza con tutto ciò che è il mondo ferrari quindi aspettiamoci un test di questo tipo andiamo avanti e parliamo di formula indy come potete vedere loro sul bagnato corrono dal colore dell'asfalto potete notare quanto sia importante l'acqua che c'è in pista dalla nube che sollevano le vetture potete capire che la visibilità per chi segue molto superiore rispetto a ciò che hanno i piloti di formula 1 anche se guardiamo l'altezza da terra possiamo dire che le vetture sono più alte comunque in indycar sul bagnato si gira ma perché vi sto facendo vedere questa foto una perché era bella due perché si vedono gli schizzi che la vettura fa che non sono neanche paragonabili a quelli delle formula 1 dove tra l'altro le full wet sono inutili anche da questo punto di vista perché contribuiscono a sollevare tantissima acqua ma il danno grosso viene dall'estrattore roba che dal 2026 in poi dovrebbe mutare molto però una piccola delusione io oggi l'ho incassata dalla indycar per quale motivo allora io ho sempre visto questa categoria con due grossi lati positivi il primo lato è il fatto che le vetture sono fighissime da guidare e chi le ha guidate lo può confermare sia pubblicamente che privatamente se avete l'occasione di parlarci a me è successo ma al di là di questo è sempre stato una categoria meritocratica cioè si correvano un tot di piloti con la valigia ma anche un tot di piloti dal curriculum importante che lì trovano facilmente sbocco ebbene se continua così con questi motori che a metà stagione sono stati introdotti che hanno innalzato parecchio il costo complessivo di una stagione vedremo sempre più piloti paganti e sempre meno piloti che meritano un posto da professionisti questa è una piccola delusione che arriva da questa categoria che io apprezzo ma tanto 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 e l'apprezzavo ancora di più quando c'era un po più di libertà tecnica anche se dal punto di vista della sicurezza le dall'ara che corrono adesso sono qualcosa di mostruoso concludiamo questo video in due modi uno rinnovandovi l'invito e qui siamo con matteo gardino francesco russo alex clames e samuele padalino quattro di voi quattro iscritti al canale che sono diventati piloti con noi l'invito a partecipare al nostro talent del 31 di dicembre e poi siete pronti ragazzi siete pronti ecco a voi la classifica dei commenti con a fianco le poll del video di questa notte fatto da andrea picchirri poi jack poi di nuovo jack emanuele salvi per monkey emanuele salvi e cristian biaggiotti allora questi i punti totalizzati fino a qui con andrea primo 46 punti michael che sta cicchello che sta rimontando 44 a ruota cristian biaggiotti campione uscente 43 poi antonello ritu 30 tra l'altro ragazzi e qui datemi un secondo che devo aprire un file ecco aperto chi sono i 5 più attivi sia dal punto di vista dei commenti ma soprattutto dal punto di vista dei like che oggi hanno ricevuto il bonus di 10 punti i 5 più attivi da lunedì a oggi sono michael cicchello carmelo pace poi ancora francesco zito fabio roverselli new entry e andrea vitali altra new entry in classifica quindi ragazzi grazie a tutti per questo contributo e il nostro campionato continua spedito così come le spedizioni che sto facendo il turno di vincenzo alessio e michael se non sbaglio proprio oggi bene massimo domani se dovessi non arrivarci con tutti i pacchettini bene la puntata finisce qui questa sera già è semi pronto il video probabilmente ci sarà una nuova inchiesta e poi domani e dopo domani sarò io stesso a condurre un'inchiesta perché dobbiamo fare il video del lift and cost e anche quello di approfondimento che riguarda la fia perché ci sono due tre cose di cui voglio riparlare e anche una novità che è girata pochino quindi è bene dirla perfetto vi saluto vi invito a lasciare un like e un commento ci vediamo al prossimo video cioè stanotte ciao